Una visita allo studio di Ferruccio Ferrazzi, accademico d'Italia. Ecco l'artista intento ad insegnare alla figliola. Spirito curioso dei fenomeni espressivi, Ferrazzi si è dedicato anche a studi ed esperimenti tecnici, così egli ha trovato un tipo di encausto che nelle sue opere più recenti va elaborando ed esperimentando. La mostra di Ferrazzi alla Galleria di Roma, inaugurata dai ministri Polgarelli e Bigini e dal Presidente dell'Accademia d'Italia, Eccellenza Federzone. Dopo le prime esperienze futuriste, l'arte del Ferrazzi si è rassodata in una visione più limpida del mondo e su schemi più vicini alla tradizione classica italiana.